salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale l'unboxing di un drone che mi ha incuriosito davvero tanto infatti non l'ho ancora aperto ancora confezionato appunto perché ci tenevo fare questo unboxing con voi e condividere appunto le mie sensazioni a caldo di quello che andrò a vedere nel fare questo unboxing per questo drone è della SJRC per intenderci lo stesso marchio che ha fatto lui l'SJRC F11 4K Pro è un drone che è super super eccezionale per le sue caratteristiche e il suo comportamento di volo la fotocamera stabilizzazione e per il suo prezzo che è inferiore ai 200 euro quindi è stato il primo drone con caratteristiche veramente veramente di alto livello per un drone low cost ovviamente non alla pari dei droni più blasonati ma sicuramente in questa fascia di prezzo è uno dei due migliori droni che ci sono attualmente sul mercato e SJRC adesso ha presentato questo nuovo drone che si chiama F7 è un drone molto molto particolare lo vedete già dal disegno è un drone che dovrebbe pesare intorno ai 600 grammi quindi rientra nella stessa categoria dell'F11 4K Pro e per poter essere utilizzato in regola bisogna del patentino A1-A3 che si ottiene online su Enac ha bisogno dell'assicurazione e ha bisogno del registrazione operatore su D-Flight ma quello che mi incuriosiva appunto ragazzi quello che vi stavo dicendo prima è questo design in cui abbiamo la fotocamera appesa sotto con un gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi e con appunto video in 4K quindi un drone che mi incuriosisce davvero davvero tanto le sue caratteristiche dichiarate da SJRC sono 25 minuti di autonomia un range senza interferenze dato per tre chilometri cioè vi sto dicendo quello dichiarato da SJRC e poi quello che sarà realmente lo scopriremo quando faremo la recensione alla prova di volo però per quello dichiarato queste sono le sue caratteristiche quindi 4K 25 minuti di volo e tre chilometri di range quindi le caratteristiche principali sono queste ma adesso ragazzi direi di andare a aprire la confezione perché sono davvero curioso di vedere come è fatto e come è costruito questo drone dal punto di vista dei materiali e anche proprio della ingegnerizzazione della costruzione quindi non perdiamo altro tempo e andiamo aprire la confezione andiamo ad aprire il cellophane come vedete ancora sigillato via il cellophane qua abbiamo ancora il sigillo di garanzia nel senso che il prodotto non è mai stato aperto vado ad aprirlo anche lui che come io ho detto ci tenevo a fare l'unboxing perché talmente è curioso come drone che volevo trasmettere le mie considerazioni a caldo anche nel vederlo io per la prima volta insieme a voi quindi vado aprire la prima scatola e qua ne abbiamo un'altra aspettate eccolo qua abbiamo un'altra scatola bianca quindi doppia scatola di cartone per sjrc e qua abbiamo un bel borsone come per l'f 11 4k pro abbiamo un sacchetto di protezione anche l'f 11 ce l'aveva e wow guardate che bella la borsina wow bellissima già la borsa la borsa di trasporto devo dire bella 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 guardate che bella che è fantastica curata in ogni dettaglio non sembra neanche una borsa di un drone love cost perché comunque questo drone costa meno di 200 euro vi lascio il link in descrizione solite dargli un'occhiata se siete curiosi se lo volete acquistare magari anche con il coupon sconto se riesco ad ottenerli quindi link in descrizione e ragazzi solo la borsa tanta tanta roba rispetto all'f 11 4k pro che aveva comunque una bella valigetta fatta bene però classiche valigette che troviamo nei droni low cost se vogliamo anche se fatta bene dal punto di vista delle cerniere così non una cosa super economica qua abbiamo qualcosa di diverso sembra quasi una borsa dei droni dj ai quindi senza perdere tempo ragazzi perché sono davvero curioso piena anche di scomparti ma che bella che è bellissima andiamo a vedere il drone perché è la cosa che davvero mi incuriosisce allora qua sopra troviamo una scatoletta che ci dice che all'interno ci sono il manuale di istruzioni perfetto tutto in inglese il manuale di istruzioni però con tutte le figure quindi facile da capire anche se non si mastica l'inglese mettiamolo via quindi scatoletta via qua abbiamo un vecro che andiamo ad aprire e qua abbiamo già il drone con alla protezione del blocco a eliche perfetto vado a togliere il drone wow pensavo che era più grosso invece non è neanche tanto grosso sebbene ha questa forma con i piedini d'appoggio è venuto via il blocco a eliche perché per non andare a danneggiare le eliche che non sono richiudibili perché sono eliche fisse abbiamo il blocco a eliche che va solo appoggiato sopra e non permette il movimento delle eliche quando inseriamo il drone all'interno della confezione ma adesso il drone lo accantono un attimo vediamo cosa c'è ancora nella confezione quindi si apre ancora il velcro qua sopra qua sotto abbiamo un altro abbiamo un doppio fondo tipo per trasportare cose molto segrete un doppio fondo dove abbiamo i braccetti con le eliche di ricambio ah no abbiamo solo le eliche no perché qua dalla figura sembrava che davano anche il braccetto di ricambio invece abbiamo quattro eliche poi abbiamo una chiavetta brugola poi abbiamo le viti per fissare le eliche probabilmente non so qua delle altre viti ancora e qua il cavetto per ricaricare le batterie quindi questo è quello che abbiamo all'interno della confezione di cartone che era nel doppio fondo segreto quindi veramente una bella bella borsa ma davvero bella fantastica solo la borsa devo dire che ha il suo perché anche se il drone dovesse essere una cioffegata la borsa merita di bestia quindi abbiamo detto qua sotto non c'è più niente abbiamo preso tutto anche dal doppio fondo poi abbiamo il radiocomando che è lo stesso identico che di quello delle f11 4k pro ed è un radiocomando davvero ben fatto è una delle cose che piace tanto delle f11 4k pro oltre al drone è il radiocomando perché è bello sia nella costruzione dei materiali sia del display e ci dà delle informazioni anche se non dovessimo usare lo smartphone o se nel caso non vediamo lo smartphone perché c'è tanta luce comunque tante informazioni le abbiamo qua nel display un radiocomando molto più simile a quello dei droni più costosi e non di droni low cost è davvero davvero bello il radiocomando che poi ha le batterie ricaricabili incluse quindi non bisogna metterci nessuna batteria è davvero bello completo in tutto abbiamo la rotella per muovere il gimbal abbiamo la rotella per fare zoomare la videocamera poi abbiamo il tasto stop che se premuto per circa tre secondi fa spegnere il drone quindi il drone precipita ma è proprio si usa in caso di emergenza nel caso dovessimo perdere proprio il controllo del drone quindi piuttosto che fare danni o fare male a qualcuno meglio farlo precipitare poi abbiamo il tasto d'accensione il tasto di return to home e questo tasto che ci permette sia di cambiare la velocità se cliccate una volta se invece lo teniamo premuto per cinque secondi fa passare dalla modalità gps la modalità non gps quindi il drone potrà volare anche se non ha il segnale gps mentre si sarà in modalità gps senza che abbia ricevuto i satelliti necessari il drone non decollerà e ragazzi adesso andiamo però a vedere lui il drone allora qua abbiamo detto che abbiamo il blocca eliche wow è strano che comunque a questa forma sia alta però da chiuso è anche abbastanza compatto in realtà nella sua borsa avete visto stava dentro da dio c'è spettacolo allora andiamo ad aprirlo per vedere anche quanto è il suo ingombro con i bracci aperti questi vanno verso il basso e vengono in avanti un po alla dji per intenderci cioè scorrono verso il basso per poi risalire quindi da aperto l'ingombro è questo e devo dire che non è molto ingombrante a livello di bracci è abbastanza compatto le eliche sono belle grandi rispetto alle dimensioni del drone diamo un occhio alla batteria allora la batteria è una 3s da 2600 mini ampere da 28,86 watt ora poi per ricaricarla abbiamo una type c e anche questa è una cosa interessante perché normalmente nei droni low cost abbiamo la micro usb per ricaricare la batteria mentre qua abbiamo una type c andiamo a rimetterla e adesso andiamo a guardare l'altra parte super interessante che è questo gimbal è un gimbal davvero importante stabilizzato meccanicamente su tre assi allora andiamo a sganciare il copri gimbal che si sgancia così ok poi viene via guardate il copri gimbal è ingegnerizzato di bestia anche lui perché si aggancia nei piedini d'atterraggio e va a coprire completamente questa telecamera vedete che è stabilizzato meccanicamente su tre assi quindi fa tutti e tre i movimenti e in più abbiamo anche i gommini anti vibrazioni qua sotto come per l'f11 4k pro non abbiamo l'optical flow e anche qua i due sensori ad ultrasuoni ad infrarossi sono finti anche questi non c'è nulla qua dentro quindi non ha sensori sotto di lui però anche l'f11 4k pro nella versione che ho io poi si dice che ci siano delle versioni che hanno veramente il sensore o meglio l'optical flow anche se non so se realmente esista però lui non ne sente la mancanza ha un overing incredibile vola benissimo quindi un drone che non si sente la mancanza di quel sensore devo dire perlomeno nel volo all'aperto poi sicuramente al chiuso dove il gps non prende a quel punto potrebbe risentirne magari un po soprattutto nella stabilità in overing poi guardiamo dove va inserita la micro sd in teoria visto le dimensioni potrebbe essere inserita direttamente nella videocamera proviamo a guardare se infatti eccolo qua qua vedete abbiamo lo slot per inserire la micro sd dovrebbe essere una supportata fino da 32 a 128 giga se non sbaglio e poi una cosa che stavo guardando che qua c'è una specie di levetta che possiamo andare a tirare vediamo cosa succede probabilmente si sgancia il gimbal vediamo si guardate abbiamo anche il gimbal estraibile pazzesco pazzesco è fantastico è fatto davvero bene anche i materiali ragazzi sono davvero di buonissima qualità sembra un drone molto più costoso per come diciamo è costruito e per le plastiche che sono state usate davvero davvero bello non è per niente un drone economico nel guardarlo proviamo andare a rimontare il gimbal quindi inseriamo la parte anteriore poi tiriamo indietro ancora la levetta abbassiamo il gimbal lasciamo la levetta e wow è rimesso il gimbal con la videocamera fantastico aspettate che tolgo la pellicola subito se no a finire che il primo volo che vado a fare gliela lascio su poi dico non si vede tanto bene per forza c'ho sulla pellicola allora davvero bello 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 il drone bello il radiocomando fatto bene tutto tutto bene e bellissima la borsa la borsa è qualcosa di eccezionale cioè roba da usarla per qualsiasi altro drone o qualsiasi altro dispositivo elettronico volessimo portare in giro davvero la borsa è fantastica fantastica nelle dimensioni nei materiali sembra una borsa di dji bellissima quindi questo era solo un unboxing perché curioso di condividerlo con voi live perché anch'io ero curiosissimo quindi volevo trasmettere le emozioni le mie sensazioni nel provare avere tra le mani questo drone sicuramente particolare di un marchio si low cost ma che fa prodotti davvero di buonissimo buonissimo livello quindi anche questo sjrc f7 pro sembra un drone davvero davvero interessante che potrebbe non sfigurare rispetto al suo fratello f11 4k pro e magari fare anche qualcosa di più o darci delle soddisfazioni maggiori quindi ragazzi se questo video in attesa che arrivi la prova di volo e il test dell'f7 pro vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler arrivato anche lo spoiler di lui si intravedeva qualcosa quindi tante cose di un olivoli in fpv post dove vado a volare stampe 3d sempre se vi va iscrivetevi al mio canale tregamo offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial o una novità ciao